Io sono profondamente preoccupato perché se questa sentenza diventa prassi vuol dire che da domani mattina migliaia di immigrati clandestini, perché i tre tunisini erano clandestini, che tra l'altro le cronache confermano che abbiano partecipato alla distruzione del centro d'accoglienza di Lampedusa che venne bruciato nel 2011. Se questa diventa una prassi domani mattina noi abbiamo migliaia di immigrati clandestini che faranno domanda di risarcimento e non potremo né espellerli, cosa che fanno tutti i paesi del mondo, né tantomeno, anzi saremo costretti a doverli risarcire. Io sono molto preoccupato per le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo perché è esattamente la stessa Corte che obbliga lo Stato Italia a dare 8 euro al giorno di risarcimento ai detenuti. Io ricordo che i CIE che in Italia sono stati smantellati sono gli unici strumenti necessari e fondamentali per identificare ed espellere ed è il motivo per cui in Italia non viene espulso più nessuno.